La foto con il fidanzato, Luigi Di Lella, cattura in pochissimo tempo più di 110.000 like. . Villivo Osh, youtuber e scrittore, ex concorrente di Pechino Express in coppia con l'amica Alice Venturi. Che con un video tempo fa, ha deciso di fare coming out, ha finalmente trovato l'amore e tutti i fan ne sono contentissimi. . La foto con il fidanzato Luigi Di Lella è tenerissima. Guglielmo Scilla è sorpreso dalla sua voglia di ufficializzare il legame, e sul suo profilo ironizza. Questa roba mi sta già sfuggendo di mano. . Prometto che farò del mio meglio per abituarmi a questa serenità e cercare di arginare altri scatti alla bella e il bard. . Fino ad allora, chiedo già perdono per ogni momento di debolezza. Interagire con qualcuno che non sia un caso umano è una novità troppo grande per me. . Siate comprensivi. RSVP, punto Prima di uscire definitivamente allo scoperto con una foto con il fidanzato Luigi Di Lella, Guglielmo Scilla aveva postato un'altra immagine. Uno scatto in cui sono immortalate due mani maschili che si stringono. . Entrambi i ragazzi indossano un orologio in cui è raffigurato Topolino, e la didascalia città Mickey più Mickey. . Le due foto sono state condivise pure da Luigi, anche lui al settimo cielo per il sentimento sbocciato e che pare proiettare la coppia al settimo cielo. . 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